La Nazionale Paralimpica di Ciclismo svolgerà un ritiro a Pescara dal 5 all'11 giugno per preparare dei grandi appuntamenti che ci saranno in questa estate. Per Paolo Addesi parliamo di questa avventura che inizierete a breve ma anche di solidarietà. Sì, un ritiro importante perché in vista della terza prova di Coppa del Mondo che si svolgerà in Olanda a fine giugno e poi ci sarà un lavoro concentrato per i mondiali in Sudafrica che ci saranno a fine agosto. Una Nazionale che torna in Abruzzo, questo è un appuntamento importante perché rientra in un progetto che è nato con il comune di Pescara, il progetto Solidarietà Fastport dove comunque ci saranno delle giornate, saremo impegnati sia in una pedalata della solidarietà che si farà l'11 giugno a Pescara e poi il 7 ci sarà la premiazione a conclusione di questo progetto, sempre qui nel Palazzo di Città con la partecipazione della Nazionale e delle altre associazioni che hanno fatto parte di questo progetto importante perché è un progetto svolto all'interno delle scuole, un messaggio portato ai ragazzi perché comunque di fronte alle difficoltà, alla disabilità non bisogna fermarsi. Ci sono tanti atleti che hanno trasformato questa sfortuna in un'opportunità, quindi comunque il messaggio è questo, mai arrendersi e magari dalle cose più brutte tirar fuori il meglio di noi. Questa è una partnership che si rinnova, abbiamo già avuto due ritiri, uno a Pineto e uno a Francavilla al Mare, e questo è il terzo che si terrà a Pescara, quindi ciò dimostra che c'è una partecipazione del Comitato Regionale e dell'attività di questa nazionale importante. Di questo dobbiamo ringraziare soprattutto sia il commissario tecnico Mario Valentini, ma direi anche Pierpaolo Addesi, il nostro atleta di punta in questo tipo di attività, che si dà da fare tantissimo, oltre che come atleta agonista, ricordiamo che ha partecipato a Campionati del Monde e Paralimpiadi, ma anche come organizzatore, sia di eventi di Nazionale Paralimpica, ma sottolineerei che si impegna anche nell'attività giovanile.